bene raga bento di play in questo nuovo video oggi siamo in un nuovo video adrenalin un altro episodio di troverò cristiano ronaldo top player ho cambiato perché così possiamo vederlo e poterci fortuna almeno si supera e abbiamo il pacchetto con l'hutwork di ronaldo ronaldo qua e ronaldo qua speriamo che lo troviamo pure dentro raga se volete votare potete andare nel primo episodio questo qui è il sesto e votare se secondo voi lo troverò entro i primi 30 pacchetti o tra i 31 e 50 o tra i 51 e 100 per ora sta vincendo 66 per cento entro i primi 30 tra i 31 e 50 secondo posto e tra i 51 e i 115 e quindi adesso possiamo aprire il pacchetto da la carta allora orsolini terracciano cragno attaccante potrebbe essere ronaldo quindi giriamo lui e dagli alto super giro draft e gli stella che ce l'abbiamo tipo quadruplone e bello quindi questo qui era il parchetto di oggi mi ricordo che ogni giorno alle 2 uscirà un altro episodio di troverò ronaldo top player e quindi raga e noi ci vediamo al prossimo episodio di troverò ronaldo top player ciao